Saranno in tutto 48 le corse in più delle frecce di Trenitalia dal 17 al 21 dicembre per agevolare la mobilità delle persone prima delle festività natalizie. Tra queste corse straordinarie sono incluse le estensioni per Edda Foggia grazie al potenziamento delle tratte Milano-Lecce, Roma-Bari. Le nuove frecce, i cui biglietti sono già in vendita, non saranno naturalmente le uniche corse a disposizione per chi vorrà rivedere i propri cari a Natale, ma si aggiungeranno alle frecce e agli intercity già previsti dall'attuale offerta. Trenitalia monitora quotidianamente il riempimento dei treni e continuerà a farlo anche nei prossimi giorni per valutare eventuali ed ulteriori rinforzi sulle tratte più frequentate. L'integrazione all'attuale orario invernale è stata comunicata da Trenitalia in base al monitoraggio della domanda. Resta in vigore la disponibilità del 50% dei posti a sedere con la disposizione a scacchiera.